Quali sono i segni più comuni di cancro allo stomaco? Mentre la maggior parte dei pazienti sperimenta pochi o nessun sintomo precoce, ci sono molti segni comuni di cancro allo stomaco che si verificano man mano che la malattia progredisce. Molte persone hanno difficoltà a mangiare, tra cui perdita di appetito, difficoltà a deglutire e sensazione di eccessiva pienezza e gonfiore dopo un piccolo pasto. Alcuni pazienti hanno indigestione e bruciore di stomaco, mentre altri possono avere problemi gastrointestinali come nausea, vomito e sangue nelle loro feci. Altri sintomi possono includere dolore all'addome, affaticamento e perdita di peso. Poiché questi sintomi sono piuttosto specifici e possono indicare una varietà di altri problemi, e poiché un tumore nello stomaco può diventare molto grande prima che causi qualsiasi sintomo significativo. Le persone che li hanno dovrebbero essere tipicamente esaminati da un medico per determinare se il cancro allo stomaco è la colpa. I problemi con il cibo sono alcuni dei più comuni segni di cancro allo stomaco. Alcuni pazienti tendono a non sentirsi affamati mentre il tumore nello stomaco diventa più grande e occupa più spazio. Quando mangiano, possono avere difficoltà ad agglutire e ad abbattere il cibo. Spesso, mangiare un pasto, anche piuttosto piccolo, può portare i pazienti a sentirsi eccessivamente sazi e può anche causare disagio o dolore addominale. Altri problemi che sono frequentemente segni di cancro allo stomaco sono l'indigestione e il bruciore di stomaco. In particolare, dopo un pasto, i pazienti tendono a sentirsi gonfi, glandosi e a disagio. Possono anche notare una sensazione di bruciore allo stomaco e al torace del reflusso acido. Il cancro allo stomaco può anche portare ad alcuni sintomi spiacevoli che influenzano la digestione. Man mano che il cancro cresce, molte persone tendono a sentirsi nauseate frequentemente, il che spesso porta al vomito. In alcuni casi, possono avere sanguinamento nello stomaco e il sangue può essere presente nel loro vomito. Il sangue può anche apparire nelle feci di un paziente, facendoli apparire neri e catremosi. Ci sono molti altri segni di cancro allo stomaco che i pazienti potrebbero notare durante le fasi successive della malattia. I pazienti possono avere una sensazione generale di disagio o addirittura dolore all'addome dovuto alla pressione del tumore, in particolare nelle sezioni superiore a media. Possono tendere a sentirsi deboli o stancarsi facilmente, a volte a causa di un lieve caso di anemia. Alcuni pazienti possono notare che stanno perdendo peso, in parte a causa del cancro in sé, ma probabilmente anche a causa di problemi nel mangiare abbastanza da cibo.